perdi la rotazione non possiamo non stare zitti adesso perché comunque qualunque cosa diciamo siamo sommersi nel voato del palazzetto senza avere grossi impegni poi da gennaio riparte tutto il campionato di Serie A che comincerà a febbraio fino ai campionati d'Europa ci sarà una tappa di Coppa del Mondo un incontro amichevole bocca al lupo allora grazie a voi ciao e andiamo ad apprezzare l'esercizio di Carlotta Latrave dato uno sguardo all'estremità per avere la sicurezza di partire nella zona giusta ribaltata senza mani perfetta il salto del montone arrivo controllato parte acrobatica clic smezzato salto dietro smezzato bravissimo brava perché controlla e controlla gli arrivi giambè con cambio ecco sacco una rotazione una piluetta obbligatoria per le esigenze della trave collegamenti molto eleganti giambè con cambio ad anello ancora un giambè controlla l'arrivo il controllo della parte finale della trave concentrazione qualche secondo prima di partire per andare in rondata e doppio abitamento all'azzetto che esplode giustamente clausi a scena aperta pubblico in piedi la regia forse non riesce neanche a inquadrare l'entusiasmo bene era partita Carlotta forse un pochino distratta dall'applauso di prese